ciao a tutti ragazzi qui Alec e guardate oggi su Airstone cosa andiamo a fare uno spacchettamento di 80 pacchetti 40 di nuovo meccanica del nuovo aggiornamento e 40 classici io non gioco da tantissimo ho già spacchettato comunque 40 pacchetti avevo già preso il pacchetto di benvenuto da 10 e tutte le avventure ovviamente sono investimenti che prendo dal canale per cercare di aumentare e avere mazzi competitivi sia per portare migliori video ma anche in vista del di febbraio marzo quando inizierò comunque a streamare che mi arriverà la fibra perché almeno su Airstone ovviamente streamerò cercando di arrivare facendo partire classificate ad arene più alte possibili a livelli più alti possibili possibilmente il mio obiettivo è la leggenda entro l'anno e però entro l'anno nel senso entro un anno no entro fine dicembre anche con iniziato da qualche mese e quindi ho bisogno di spacchettare spacchetterò e voglio portarli ovviamente un video o almeno vedete i spacchettamenti e facciamo li facciamo insieme vedete un po le carte allora andiamo a fare i primi classici e poi facciamo meccania e io sono stato molto sfortunato con le leggendare finiamo considerate che io ho trovato due ramingo show ragazzi ramingo show è la leggendaria più inutile del mondo tutte quelle che ho trovato sono completamente inutili allora qui abbiamo quattro comuni ovviamente delle classiche troverò una marea di doppioni infatti questi ce li ho già tutti sì probabilmente ce li ho già tutti però quelli sono tutte polveri e quindi a fine spacchettamento con le polveri andrò a craftare le leggendarie che voglio avere assolutamente qui pure niente leggendaria abbiamo tutti i doppioni pure qua per questo qui del sacerdote però forse no eh quella è la buona quella fa fa le cose che curano fa far danno e quella è buona in multi deck ci stanno molte combo letali ok qui c'ho tutti qui c'ho tutte doppioni assolutamente dai su su quarto pacchetto vediamo un po la leggendaria vediamo quante ne troverò secondo voi quante ne troverò in teoria se mi dice bene almeno tre o quattro deve trovarne ma in realtà ho finalmente la tempesta di fulmini finalmente finalmente mi sembra che c'era solo una non c'avevo proprio e che cazzo infatti per lo sciamano quella essenziale e a me non mi riuscivo a trovare non riuscivo a trovarlo un'epica ragazzi due epiche wow super pacchetto vediamo un po quale epiche ok questa qui del ladro mi sembra che ce n'avevo una sola ed è buona è usata in tanti deck questo antico del sapere del druido pesca una carta origenera 5 salute non è tanto non è buona non è buona che costo 755 è una merda ragazzi all'aggiunta tempesca carta ma voglio dire non è per niente buona però non ce l'avevo mi mancava una comune dorata questa è buona per i polveri ce l'ho tanto e questi sono tutti i doppioni ok discreto pacchetto dai allora vediamo un po questo rara comune vai con la leggenda e niente leggendaria queste ce l'ho tutte rara dorata buona in culo io di battaglia il prossimo segreto che giochi in questo turno costa zero un po' una merda questa diventerà belle polveri rara dorata 100 polveri e tanta roba e vediamo un po se riuscirò a trovare qualche leggendaria decente classica anche perché ho trovato qui pure niente onyxia che non vale un cazzo però l'ho ottenuta perché un drago e poi un'altra epica rara e leggendaria no queste ce le ho tutte questa lo sciamano non lo so se ce l'avevo doppia forse non ce l'avevo questa che è quando un nemico attacca con divenzione 2 1 bersaglio questa non penso da avercela però non sto sicuro forno d'ombra questa non ce l'ho il tuo potere poi diventa infliggi due anni se già in forma d'ombra diventa infliggi tre danni attenzione non è male questa ragazzi e fornisce l'antoni molto riavola questo servitore a un servitore ok vabbè quella quella pure ne manca quindi alcune carte ancora mi mancano delle classiche però trovo tanti doppioni perché ce ne ho parecchio spacchettato molto classico questo è un pacchetto normale ce l'ho tutte e la rara pure ce l'ho non so se ce l'ho doppia però penso di sì e una epica da quella leggendaria no comune dorata buono una rara l'alchimista folle ce l'ho epica vediamo e no gigante del mare ce l'ho ragazzi ce n'ho già due dieci pacchetti niente leggendaria dai all'undicesimo eccola qui boom allora no no e questa è rara maledetto ce le ho tutte queste qua dodicesimo pacchetto e dai su non me puoi non da una leggendaria non me la puoi non da non me la puoi non da dai cazzo queste ce le ho tutte fogo male dai dai su vediamo un po vediamo un po no altro pacchetto senza niente e lui lui mi sa che non ce l'avevo doppio sapete ragazzi c'erano uno solo quindi è buono averlo ira di silvana non so se ce l'avevo doppia ma penso di sì l'altro ce l'ho tutte comunque almeno completiamo parecchie classiche evitiamo di andarla a prendere sprecando polveri qualcosa buono ho trovato per il momento che mi serviva però queste qua ce l'ho tutte lui però forse doppio non ce l'avevo sapete mi sa che lui secondo quello è buonissimo ragazzi è fortissimo per il warrior in alcuni mazzi soprattutto quelli agro allora vediamo un po niente ah tormenta la seconda tormenta buonissima questa rara del mago per mazzo frigge è fondamentale ed è fortissima ce ne avevo una sola finalmente l'abbiamo trovata buona buona quella rara però qui la leggendaria ragazzi guardate che sfiga non trovo una leggendaria stavo dicendo ho trovato due ramingo ciò onyxia e poi ho trovato del gran torneo tipo una bestia che una leggendaria bestia che in pratica si attaccava e distruggeva otteneva più 2 più 2 era tipo un 6 8 una merda pure quella inutile leggendari più inutili e l'ho rifondata e poi ho trovato dei sussurri ho trovato anzi no sempre dei gran torneo ho trovato ronin del mago che in vale in cazzo è quello che te dà 3 alla morte rantolo di morte te dà 3 i razzetti la dei maghi quindi vale in cazzo manco quello tanto è vero che l'uniche leggendari che ciò buone cioè ragnaros e sylvanas e antonidas l'ho prese io l'ho craftato io con le polvere attenzione un'epica vediamo un po l'epica e la rara l'abominio ce l'ho e questa è quella che non avevo adesso lo doppiano tra addirittura 2 perfetto quindi quelle l'abbiamo completate ma abbiamo spacchettato 17 pacchetti 0 leggendarie assurdo ragazzi dai al diciottesimo una leggendaria ma pure da doppia rara vediamo un po le rare a questa qua del ladro non ce l'ho sono sicuro non l'ho vista fornisce furtività un tuo servitore fino al turno successivo una merda 4 4 4 niente di che quest'altro ce l'ho tutto il morso non so che c'erano doppio del duro penso di sì e dai è da una possibile ragazzi ma ho una rara una comune dorata che ciò e quindi saranno polveri irasagra questa non so che c'erano doppia però forse sì ventesimo pacchetto al ventesimo c'è una leggendaria ogni 21 no dai dai un'epica abbiamo trovato tante è un'altra volta gigante del mare ma me sta trolla me sta queste ce l'ho tutte dai non ce credo che non me l'hanno leggendaria comunque io sono una sfiga assurda ragazzi me le grafterò tutte con le polveri sono già sicuro questa cosa non mi escono non mi escono ombro fuoco stregone distrugge un servitore infeggi di anni a questo ce l'ho non è per niente una buona carta ventiduesimo pacchetto forza forza tanto questo episodio è un santo per a lungo però penso che piaccia perché comunque uno spacchettamento quindi non lo dividerò in due fornisce un cristallo di mano all'avversario con le marcano quello la un po' una merda perché un 344 e poi avevi 4 4 col 3 delisir da un cristallo di mano all'avversario cioè fa veramente schifo però non ce l'avevo quello però è una carta di merda ragazzi dai dai dammela una leggendaria comunque gli ultimi 40 pacchetti capo aperto ma dato una leggendaria sola è per giunta del merda c'è una leggenda ogni 40 pacchetti è veramente la media di merda dell'altro che di battaglia infigge un danno combo infigge due danni un'arma due due non è malissimo non ce l'avevo quella starà raccoglie dai non ce l'ho io crede non ce l'ho io crede nome dai due leggendari o me ne dai una dorata leggendaria dorata ragazzi tanta roba a posto di luce ce n'avevo uno solo sapete buono averne un altro le altre ce l'ho tutto buono 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 è una buona carta del sacerdote simpatica da usare niente leggendari ragazzi assurdo queste ce le ho tutte questa rara i lupi ah i lupi mi sa che non ce l'avevo ragazzi ce n'avevo uno solo ce n'avevo buono quindi mo ce l'ho pure di lupi buono 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 dai cazzo con lo sciamano che lo voglio fa il mazzo sciamano perché è troppo forte ragazzi c'è niente da fare ecco gli altri lupi perfetto quindi se non ce l'avevo e almeno mo finisicuri e leggendari niente ragazzi proprio se apro 40 perché ti non trova una leggendaria penso sono l'unico al mondo o tiro esplosivo questo pure ce n'avevo uno solo ragazzi e cacciatore ho completato anche quello l'altro ci avevo tutte epica rara e leggendaria no queste qua ce l'ho tutte epica gli altri pirati hanno più uno più uno 3 3 3 una merda e però non ce l'avevo sta epica e questa rara ovviamente sì niente ragazzi mancava manco metà narissa del warrior che mi serve come il pane tra le epiche che sto a trovare metà epiche inutili tipo due giganti del mare l'ultima che serve un cazzo dei pistaggio non ce n'avevo doppio ce n'avevo uno solo quindi quello mi mancava dai il trentesimo pacchetto non ho trovato una leggendaria ragazzi io ho letto su internet che c'è una media anche di una ogni 13 da merissa bucaniere di nuovo ma vedete ragazzi è buggato c'ho i pacchetti buggati il genera 4 saluti a tutti i servitori questa è fortissima non ce l'avevo questa qua è forte perché perché con quella se io mi schiero quella che il servitore che fa fare le cure diventano danni questa fa 4 danni a tutti invece che cura 4 a tutti a costo zero quindi quella è una bella combo per pulire a bordo col sacerdote ma non c'è credo che non metà leggendari e non c'è credo dai non ci sto a credere gara non mi escono bilguardia di battaglia distrugge un tuo cristallo di mano e provocazione 3 3 5 po una merda però questo mi mancava dai non c'è credo 40 pacchetti zero leggendari sono l'unico ragazzi sono l'unico al mondo penso porco cane comunque a questo qua ce l'ho la rara tutte le classi a signore limpia una sola sono da manca dai non c'è credo ancora otto pacchetti da me sta leggendaria ma me stai trolla me stai me sta eccola eccola allora ti prego dammi una leggendaria decente oh erison jones erison jones è una leggendaria decente usata in molti deck perché non è fortissima un 5 a 5 4 però distrugge l'arma del nemico e pesca una carta per ogni integrità distrutta quindi se un'arma con 30 grida pesca 3 carte ed è molto forte soprattutto contro armi potenti quindi erison jones è già usato ed è una carta che comunque bisognava avere ma che non avrei usato le polveri per farla subito non è che avrei dato priorità quindi è buono trovarlo in modo che ce l'ho andiamo questa rara niente di che ok adesso troviamo dammene un'altra dato ho coperto 40 pacchetti dammene subito un'altra brutto stronzo mi serve la rissa per il orio raga rara dorata infigge 5 danni rigenera 5 saluto al tuo eroe non male dorata non credo di averla però penso che l'aria fonderò perché è dorata e a me mi servono polveri qua ce le ho tutte tutti i doppioni qua dai veloce veloce antara rammatara margenda uh epica vai con la rissa dai tre giganti del mare ho trovato ragazzi tre giganti del mare non ci voglio credere allarme bot ce n'avevo uno solo questi sono buoni in alcuni deck è buono sempre un allarme bot allora vediamo un po' un'altra epica dammi la rissa antico del sapere di nuovo mio dio mi sta da sempre le stesse ragazzi questi doppioni gli ultimi tre pacchetti dammi la leggenda un'altra leggendaria dammi un'altra leggendaria due in un pacchetto non so se se ne possono trovare metà una doppia leggendaria faccio una pippa una rara dorata ottiene più due attacco questo è questo qua ce l'ho quindi mandrò saranno altre polveri sto trovando parecchia roba doppiuna ci saranno un buono di polveri e andremo a craftare almeno due leggendarie sono contento per i son john perché quella è buona come leggendaria non è straordinaria ma abbastanza mamma mia questa fa schifo gallina arrabbiata però mi sembra che mi mancava la seconda allora vediamo un po' allora dai un leggendario all'ultimo pacchetto ne trova due su 40 oh mio dio non ci credevo più vai dammene una super remugla non ci credo raga remugla remugla che è pure quello più scarso finisce due banana all'avversario un 355 giusto questo è buono solo per i mazzi agri dai con questa 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 è data via porco vinci ma la tengo giusto perché è una classica rimarrà per sempre ma ma detto poco male ragazzi merda proprio dei leggendari passiamo meccania qua pure ci sono tante leggendari da trovare ragazzi necessarie subito un'epica vediamo un po qua mi mancano parecchie carte quindi ho questo mi mancava questa è una buonissima ragazzi è druido fondamentale questa pure è fortissima e è un 122 che rigenera 4 a tutte le eroe situazionale col 4 4 però del cacciatore dopo che il tuo eroe attacca evoca un piragna 1 1 non male lancia piragna queste qua mi mancano tutte me sa buon pacchetto iniziale subito ovviamente non so bene quelle che ciò che non c'ho ma ce n'ho poco aperto tipo 7 8 pacchetti di meccania quindi rara rara tre rare ragazzi pozione furiosa dello stregone rigenera questa già ce l'avevo adesso ce n'ho due questa è del ladro questa qui è del cacciatore ed è usata buono 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 qua mi mancano tutte ragazzi quindi questo è proprio un pacchettamento che comincia a velle perché un'epica e niente leggendarie questa dell'altra è buonissima e questa del guerriero è buonissima questa del paladino non è male perché da più una tutti i servitori nella mano e l'epica è il vision lunari del druido pesca due carte i servitori pescati costano due meno una merda però vabbè sempre un'epica non ci possiamo lamentare qua ci sono diverse leggendarie buone da avere vediamo quale troveremo sicuramente noi troveremo lo schifo allora questo qui ce l'avevo l'abissale protettore abissale però ce n'avevo uno solo questa lo ritrovate di nuovo questa qua mette nella tua mano una pozione casuale è un 4 costo 4 3 3 non è molto buona a questa è quella che tri classe druido ladro sciamano rinviene una carta il ruido questa rinviene una carta è un 5 3 un po' una merda ragazzi a costo 5 un 5 3 3 di vita è molto fragile allora veniamo un po' oh sacerdore della cabala non è male vediamo un po' la rara pozione vil fuoco infine 5 danni a tutti i personaggi ma bel danno a tutto compreso eroi quindi bella bella forte quella carta e vediamo un po' niente era lente leggendaria questa una già ce l'avevo questa è buona per il paladino questa è l'altra del coso buono questo evoca un golem di giada fornisce un cristallo di mano a vuoto questo è il duido è potentissima perché evoca un golem inizia la serie di golem e fornisce un cristallo di mano a vuoto quindi è potentissima e questa qua del druido ottiene più due più due se controlla un servitore un attacco per questa è una merda sta proprio una merda però l'importante è che sto trovando già due del duido col golem che è molto forte come deck vediamo un po' combo fa tornare un servitore nella tua mano ma pacchetto un po' di merda questo ottavo pacchetto dai con la leggendaria dammene almeno tre qui dammene tre qui non due dammene tre dai bello dai ue infigge quattro danni evoca un golem in giado fortissimo nel mazzo con i golem dello sciamano è fortissima sta carta quattro quattro danni evoca pure un golem inverno servitore con provocazione non serve molto questo qui il dragone rosso questo qua ottiene carica se un servitore amico ha provocazione strappone a me poi inutile la carta molto situazionale dipende molto allora una rara niente leggendaria niente leggendaria criomante provocazione o quest'altra è lo sciano ce ne abbiamo già due buono questo pure molto usato perché rinviare una carta costo 2 1 1 non mi piace perché costo 2 1 1 è veramente la merda attorno 2 schiera 1 1 1 che rinviare una carta si è vero quindi alla fine te la scegli tra tre come pesca una carta che te scegli non è male però non è manco tutto sto evoca 4 murloc 1 1 questa è simpatica un altro di questi bene ce ne abbiamo due adesso basta basta darmeli epica da quella leggendaria doppia rara in epica buono pozione furiosa dello stregone questa che aveva infigia cinque tanni ha un servitore nemico randolo di morte infigia cinque tanni altora è un po una merda molto una merda queste cose sto trovando continuazione ste due e tutte le classi ottiene carica se l'avversario ha sei o più carte in mano a 6666 posta niente non l'ho vista usata non ho visto usare molto quella carta niente leggendaria nemmeno qui vediamo un po madonna sti armi a retorvo mi stanno a tutti quelli mi stanno a cadavano del lato di battaglia per un servitore furtivo niente di che era merda ragazzi quello è per un tentativo di hanno fatto un tentativo di creare un mazzo furtivo ladro ma non è riuscito non è entrato in meta allora vediamo niente leggendaria nemmeno qui oh questa è buonissima è stra usata e mi mancava questa tocca tranne un'altra di queste pure lui è usato perché comunque un 545 con provocazione costa 2 in meno se il tuo avversario ha almeno 3 servitori quindi è buono quando con i mazzi quelli che schienano molto perché lo andiamo a pagare 3 ed è un 45 provocazione quindi è una cosa fortissima però anche quella situazionale nel senso va giocato quando dai servitori nemici altrimenti è nì comunque niente leggendaria nemmeno qui questa è buona del ladro buona della trovata tutte le classi niente di che 15esimo pacchietto dai 15 qui poi me lo trai tra altri 15 e poi me lo dai alla fine dai dai 3 leggendari dai dammene 3 rara 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 dorata in vera una carta del mago del sacerdote dello stregone 3 2 2 questa è usata quella della gabbana niente di che questa fortissima e lui rigenera salute un servitore al massimo 4 2 6 un po una merda ragazzi un po una merda allora veniamo sto pacchetto vediamo testa leggendari se degnare darmela e se mi darà la peggiore anche qua della classica ragazzi ma non a parte di son jones prima che vabbè non è stato quello del cacciatore del ticotto del cacciatore mi mancava quella è buona la stanno usando nuovo facehunt vediamo un po e di nuovo quella pacchetto di merda comincio a trovare parecchi doppioni anche qua comunque perché alla fine sono 130 carte dopo un po si cominciano a trovare i doppioni andiamo no avvocato questo difensore ce l'ho eccolo qua beh molto digiata di nuovo perfetto adesso ce ne abbiamo due gatto l'andaggio il secondo molto buono e agente di lodo rinviare una carta duido questa qua quella di prima non mi piace a me vediamo un po rara ma è leggendaria madonna eccolo qua spirito di già da fondamentale e finalmente stavo pure del druido mi sembra c'è una sola la seconda questa è fondamentale penso di avere quasi tutte le carte che mi servono per fare il mazzo druido con i golem l'altro potrò assolutamente sciardare però decidere che deck fare ragazzi con dopo questa spacchettata ho un'epica vediamo che esce quella di nuovo non ce voglio credere mi sta da sempre se serie questa qui 5 2 2 che battaglia evoca due copie di se stesso questo in pratica costo 5 mette 3 2 2 in campo non è male soprattutto se è stato buffato potrebbe essere un 3 3 4 4 quindi in questi deck che girano potrebbe funzionare oh eccolo la gente dragonite ragazzi questo qui è fondamentale perché nel priest drake è stato inserito ovviamente perché è una carta fortissima ed è fondamentale averlo quindi questo meno male che averlo trovato anche il cane rara è andarlo a craftare noi le rare non sarebbero mai craftate perché comunque si trovano parecchio in ogni pacchetto e quindi è facile poi trovarlo uh comune dorata questa qui ce la andiamo queste sono belle polveri congela un nemico del mago questa mi mancava anche se non è usata nel free smage anche se costa 0 perché sostanzialmente non è una carta molto forte andiamo un po' due rare quella lì ce l'avevamo già tutte questa è la stregone che deve tagliare più 1 e più 1 e due demoni un 4 5 4 più 1 più 1 e due demoni è molto buono questo perché comunque deve essere un 4 5 4 va già bene in più c'è il più 1 e più 1 e due demoni se c'è qualche demone giù in un quello lo vedo bene anche in un warlock uno zoo warlock perché comunque se c'è parecchi parecchi demoni a terra li baffa tutti ed è comunque un 5 4 a costo 4 o moneta contraffatta questa pure ce n'avevo una la seconda va bene perché se vuoi usare i golem nel ladro quella serve anche se io il mago non lo uso quasi mai il rogue non mi piace come deck però è sempre buono averli magari per provarli pure ok questa del mago c'è riuscita niente 15 pacchetti pure qua nessuna leggendaria proprio della serie non ne troverò mai più di tre mi dice abbastanza sfiga ragazzi abbastanza il fabbro di strada serve un botto ragazzi questo è un 2 7 costo 5 con provocazione e quando infligge danni fornisce armatura al tuo errore questa è fondamentale questa rara ce l'abbiamo doppia c'è dorata quindi saranno belle polveri allora andiamo un po niente di che andiamo qui un'altra rara che già c'avevamo niente leggendari ragazzi ha deciso di non darmi il gioco leggendari ha detto guarda leggendarita ma qualcun altro a te no e due sacerdoli della cabala me ne mancava uno addirittura due pesce grosso di battaglia evoca un ogre 6 6 costo 6 1 1 ma niente di che una carta normale codo di codo da fuga del paladino quando un tuo servitore muore ne mette una copia nella tua mano nella tua mano un segreto ma inutile carta inutile allora epica niente leggendaria un epica qua andiamo un po infigge tre danni a tutti i servitori danneggiati niente ragazzi trentesimo pacchetto niente leggendare anche nell'ultimo spacchetto eccola qua l'ho chiamata doppia me la dai dammela durata del sacerdote razza l'incatenato il se il tuo mazzo attualmente una sola copia della carta il tuo poter eroe costa 0 allora non è una delle leggendarie più forti però è comunque buonissima in un sacerdote perché un 5 costo 5 5 5 quindi è buono e se lo giocate bene quando avete solo una copia del mazzo con mazzo apposta il poter eroe costa 0 si vede ogni turno voi potete sempre augurarvi di due fisso senza pagare niente che è una buona cosa ragazzi quindi non ci è andata malissimo c'è di peggio di leggendaria in questo è e l'acca della cabala non ci avevamo e adesso in dieci pacchetti spero me ne dia almeno un'altra perché sinceramente trovarne una sola in 40 pacchetti è veramente poco ragazzi questo è un pacchetto normale questo qui non ce l'avevamo archimista disturbato 4 4 aglio che scambia attacca e saluto di un servitore quindi è il fratello dell'altro archimista costo 2 2 o il secondo fabbro di strada buonissimo esso ce ne avevamo già due e il secondo pure di quello del cacciatore buono buono stiamo accumulando parecchie carte anche di meccania intendo finirle al più presto possibile così da poter entrare nel competitive in maniera po il druido evoca un golem 1 1 e fornisce un cristiano che il secondo mi serviva me la dà addirittura altri due vediamo un po questa ah di nuovo ma quante me ne so uscire di queste ragazze non l'ho contate ma veramente tante veramente tante allora allora niente niente un altro archimista un altro di questo vabbè ma sempre le stesse carte ma che cazzo è una mafia cioè quanti doppioni c'ho mamma mia manco un epica queste tutte doppioni dai su su dammi un'altra leggendaria dammene un'altra leggendaria dammene un'altra di leggendaria madonna ho tutte doppioni questa non è male un 223 che a fine torno recupera uno solo d'altro ora non è malissimo involuzione a questa è l'involuzione sta mi mancava è simpatica come carta dato che c'era l'evoluzione dello sciamano hanno messo anche l'involuzione andiamo un po eccola eccola quale sarà genzo lo squadra questa qui non è buona come carta ragazzi però dicono che potrebbe essere comunque buona in mazzi agro eccetera comunque mazzi che magari finiscono in fretta le carte che quando attacca ogni giocatore pesca fino a tre carte finché non ha tre carte quindi se uno ha un vantaggio di carte rispetto a voi genzo potrebbe essere buono anche perché un 4 costo 4 5 4 però ragazzi ne stanno molto meglio pure qua mi ha detto male raga cassa nascosta questo è il carciatore molti la usano non mi piace molto però è usata e questo è il patino provocazione costo 766 battaglia fornici scuoline servitori adiacenti non è male questo ragazzi protettore famigerato non troverò mai un'altra leggendaria in quattro pacchetti quindi non c'è spero nemmeno anche perché con la sfiga che mi ha detto figuriamoci se ho trovato quattro leggendari in 80 pacchetti di cui due fanno schifo le leggendarie in realtà genzo nel senso ce ne stavano molto meglio ragazzi poteva dirmi peggio solo con un altro paio ma oh il credito della cabala è buono questa epica qual è l'incantatrice d'anime 3 3 4 seleziona un servitore ne mette una copia nel tuo mazzo ma forse non mi sembra malissimo come carta ma nemmeno straordinaria comunque non ce l'avevamo quindi è buona pacchetto normalissimo saranno tutti i doppioni infatti così è l'ultimo pacchetto se mi dà la terza leggendaria allora è stato un buon buon spacchettamento questi 40 ma non me la darà mai infatti non me la dà e abbiamo ok oh sciamano vive attaglia con golem di giada gli fornisce provocazione 7 5 5 costi troppo cioè consigliate che costa 7 di mano per essere buonino dovrebbe essere almeno un 7 7 ma è un 5 5 per quei due due che togli in cambio che fa un golem di giada con provocazione si se lo schieri let che già schierato parecchio con in giada e magari a un 6 6 un 5 5 potrebbe essere molto buono però è molto situazionale dipende da quanti golem mai schierato oddio al turno 7 in teoria dovrebbe essere ne schierato qualcuno però allora infatti non è male bisogna vedere anche come usarla allora adesso andiamo a prenderci le leggendare che vogliamo fan culo tutti andiamo in creazione andiamo a vedere 2110 polveri di doppioni disincanta bram abbiamo 3400 polveri ma questo non solo adesso andrò alle dorate ragazzi dorata ok andiamo a vedere le dorate che possiamo dare via che non sono di base tipo lei andiamo a disincantarla si pure se non ce l'abbiamo tutte me ne frega niente tanto la troverò queste sono di base se non sbaglio tutte quante si ok non se possono disincantà paladino disincanta questa subito 50 polveri luce sagra no è di base o questa qua disincanta pure se non ce l'abbiamo fa niente via dorate non le voglio le dorate per il momento mi servono le polveri questa qua buona questa qua questa poi ce ne abbiamo già due perfetto e qui invece guarda quante qui godo 100 polveri buone in culo 100 polveri 100 polveri 50 polveri e altre 50 polveri ragazzi mamma mia le polveri che abbiamo fatto questo spacchettamento buono 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 allora 4160 polveri quindi al costo di 1600 a leggendaria 6 12 18 non possiamo prenderne tre ma ne possiamo prendere due e io avevo deciso di andarmi a prendere grommash per il perché voglio un contro warrior e non esiste contro il warrior senza un grommash quindi devo per forza prenderlo per completare un contro il warrior quindi andiamo a craftarcelo bim peaches grommash malo grido ragazzi carica 49 quindi lo schirama è a carica e se prende il danno per più 6 attacco quindi in pratica se voi avete questa carta qua la combo si fa qualsiasi c'è stanno molte carte che fanno danno del guerriero però la migliore è questa a costo 0 figgi un danno a un servitore ma gli fornisce più 2 con un danno lui prende più 6 quindi va a 10 più 2 va a 12 con carica è un finisher della madonna grommash ragazzi infatti è fortissimo e l'altra che volevo prendere era neanche un po le leggendarie sempre per il contro warrior talnos è un'altra di quelle che servono prima o poi la dovrò prendere ma non la voglio prende subito perché nel contro warrior anche harryson jorge sta bene nel contro warrior e però cairne è fondamentale perché è un 45 che evoca un 45 alla sua morte quindi è molto forte e arrantolo di morte infatti si può usare benissimo col contro warrior con notch in realtà pure lei era buona per aver preso lei però uscirà fuori questa che fa parte del gran torneo e usciranno fuori dalla standard quindi non sarà più possibile utilizzarle e c'è il barone che è donne che in realtà pure serve però non so quale prendere ragazzi sinceramente e niente ragazzi ho deciso che per il contro warrior comunque serve sicuramente cairne prenderò lui comunque è molto buono in molti deck è una carta molto versatile quindi prenderò lui per il momento con le altre polveri invece andrò a completarmi probabilmente il contro warrior quindi andiamo a cancellare leggendaria per il contro warrior sicuramente tra quelle che mi mancano la rissa non è uscita però andare a sciopparsi un epica è pesantuccio ragazzi che costa 400 polveri e ce non si può giocare senza doppia rissa considerate è proprio fondamentale in realtà però potrei praticamente finire il contro warrior ragazzi perché a me manca solo una rissa e il colpo di scudo un altro colpo di scudo quindi io direi il colpo di scudo e delle classi io direi di creare il colpo di scudo so molti mi criticheranno per far fare delle epiche però sinceramente molte epiche sono complicate da trovare ragazzi quindi poi io sinceramente vorrei fare il mazzo subito quindi me ne vado a prendere queste polveri non mi interessa e contro warrior dovrei riuscire a farlo però non quello con notch mi manca solo notch per averlo quello quindi ne farò uno ovviamente una versione senza notch però tendo prendermelo prima o poi però non gli voglio dare priorità a notch per semplice motivo che lui purtroppo è una carta non classica che quindi prima o poi sparirà dalla standard e vorrei dare priorità a quelle però essendo sussurri degli antichi comunque durerà almeno un altro annetto quindi sicuramente serve però va bene ragazzi quindi l'episodio finisce qui anche perché sta durando veramente tanto probabilmente questo episodio lo vedrete di giovedì martedì sarà uscito l'episodio con l'hunter e quindi settimana prossima all'inizio settimana andremo a provare il control warrior e probabilmente farò partite classificate anche perché dalla settimana prossima non ci saranno più partite dove spiego per i neofili in quanto ho fatto già vedere i pazzi mage e mazzi hunter che sono quelli più meno costosi e quindi più usati all'inizio ho spiegato un po le basi adesso si parte seriamente a giocare poi seguendo e giocando imparerete tranquilli quindi tale che è tutto ricordate di lasciare like sostenete questa serie ragazzi con tanti like commenti e condivisioni perché non sta ricevendo tante visual e ci tengo molto quindi mi raccomando mi raccomando mi raccomando è importante quindi tale che è tutto c'è nel prossimo episodio un saluto ecco grazie